A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vittis dopo la bella giornata, anzi stupenda giornata di mercoledì beh qualche novità ci sarà giovedì, avremo cari amici di Rete 7 nuvole in transito, giungerà una perturbazione però investirà soprattutto il nord-est quindi ci sarà un po' il salto del nord-ovest ma non dappertutto già dei rovesci di pioggia in mattinata su Levante Ligure poi su zone anche nel pomeriggio, zone alpine, localmente prealpine nel Piemonte vedete più settentrionale orientale quindi anche della Val d'Aosta però nel complesso sul Piemonte quasi dappertutto avremo cielo poco nuvoloso, irregolarmente nuvoloso vedete le nuvole più compatte e convinte sfileranno verso la Lombardia lì ci sarà qualche rovescio di pioggia anche moderato in transito e sui settori appunto al confine tra Piemonte e Lombardia temperature minime stazionarie e massime in temporanea ripresa con valori compresi tra i 23 e i 26 localmente anche 27 gradi io per ora ho concluso cari amici, buon proseguimento di settimana, arrivederci